Viva l'imperatore Carlo Magno! Viva sua maestà e viva! Il 7 agosto alla Roma di Pescara ci sarà l'evento Dove nacque Italia. Che cos'è questo evento e com'è nata l'idea di questa iniziativa? Dove nacque Italia, una storia da raccontare, è un'iniziativa nata per il debutto dell'omonimo spettacolo Dove nacque Italia, un viaggio nella storia tra pupi, punto e musica. Abbiamo deciso di mettere su una rete costituita dalle realtà che hanno prodotto lo spettacolo Quindi Cuntaterra, che è un'associazione di Chieti, una compagnia di teatro d'alte popolare di Chieti La compagnia dei pupi italici, il TSA, il Teatro Stabile d'Abruzzo, coproduttore dello spettacolo Comitato Provinciale Arci di Pescara e l'Associazione Vitelliu di Pescara Tutte queste realtà stanno collaborando insieme per organizzare questa giornata Che poi culminerà con il debutto dello spettacolo, un debutto nazionale Abbiamo puntato nell'organizzazione di questa giornata alla multidisciplinarietà degli interventi Quindi si tratta di una ricca giornata che inizierà alle 10 del mattino con l'allestimento di una mostra Una mostra divulgativa sull'antica storia dei popoli italici Che è una storia fondamentale, importante e valorizzante del nostro territorio Alla mostra ci saranno quindi dei pannelli che spiegheranno la storia degli italici Ma ci saranno anche degli artigiani che attraverso l'artigianato, il tessuto, la pietra, la lavorazione della pietra La lavorazione dei gioielli racconteranno una parte di questa importante storia A seguire ci saranno dei laboratori per bambini perché riteniamo fondamentale Che i bimbi possano partecipare alla vita culturale del territorio Organizzati grazie al progetto CET Cultura, Empowerment, Educazione e Territorio Che è un progetto promosso dall'Arci Che Arci Pescara coordina sul territorio Attraverso cui diamo la possibilità ai bambini di partecipare a delle attività educative Di contrasto alla povertà educativa in maniera del tutto gratuita